Buongiorno a tutti, buon martedì 15 ottobre, ormai ci siamo, pausa delle nazionali quasi superata completamente, mancano le ultime partite che si giocheranno tra oggi e domani, però riapre la pinettina nel pomeriggio, iniziano a tornare i primi nazionali, tra l'altro tutti ben rinfrancati, a volte le nazionali tolgono, ma speriamo che questa sia la casistica in cui danno con un Arnautovic già oggi a disposizione, con due gol all'attivo con la sua nazionale, che può candidarsi per essere sempre un pochino più utile per Simone Inzaghi, perché l'abbiamo detto, adesso arrivano i tour de force, arriva il grande turnover che bisognerà fare, Roma, Young Boys, Juventus, titolarissimi a Roma e contro la Juve, gran turnover in mezzo, senza però sottovalutare lo Young Boys che cercherà un colpo di coda, i campioni della Superliga elvetica che sono all'ultimo posto del campionato, hanno appena esonerato il loro allenatore, zero punti, due sconfitte, zero gol fatti, mi sembra, in Champions League, in due partite, però in casa è un'altra storia, anche perché giocano sul campo sintetico, quindi turnover credo come la Stella Rossa, perché questo si può fare, spazio a Zilinski, a Slani, che ha segnato il gol della vittoria con l'Albania, quindi complimenti anche a lui, Arnautovic, Taremi, poi in difesa vedremo probabilmente Bissek con De Vrij, Carlos Augusto, poi a destra uno tra Damiano e Dumfries, a meno che Sommer poi non chieda esplicitamente di giocare in Svizzera davanti ai suoi tifosi, al suo pubblico, ai suoi connazionali, potrebbe anche cominciare a vedersi del Pepo Martinez, per dire, no? Quindi potremmo anche aspettarci di vedere il suo esordio, però vediamo poi quelle che saranno le indicazioni di Simone Inzaghi, frattesi ancora a segno con la Nazionale italiana, su assist di Di Marco, insomma una serie di buone buone indicazioni, rigore sbagliato da Cialanoglu, ma poi gol, però poi credo che meriti un capitolo a parte, la questione Cialanoglu, un po' come quella che riguarda l'Inter, che è sempre sotto attacco e l'abbiamo visto in questi giorni, Inzaghi sotto pressione, ma quando, dove, perché? Prima di ogni cosa, proprio per rispondere a tutti questi attacchi, aumentiamo il volume, alziamo l'influenza del nostro canale, iscrivetevi e cercate di dare una mano, trovando nuovi iscritti tra amici, colleghi, parenti, soci dell'Inter Club, serve una crescita anche per non essere solo, diciamo, un punto di riferimento sul mercato e quant'altro, ma anche nello smascherare tutte le fake news che circolano sull'Inter, che vengono sfruttate ad arte per destabilizzare, per provare a indebolire, incrinare i rapporti, come abbiamo visto dall'estate scorsa, per rimanere solo ai giorni nostri, c'è la Nogol Bayer Monaco e il rinnovo di Lautaro che chiedeva cifre astronomiche, la tabellina del 2, tutte fake che abbiamo smascherato subito e continueremo a farlo, quindi iscrizione al canale, di conseguenza iscrizione al gruppo Telegram, che è come Whatsapp, un servizio di messaggi assolutamente gratuito, vi permette di rimanere sempre connessi con noi, con tutte le nostre notizie, quelle del nostro sito barzacom.it, che deve essere il vostro compagno quotidiano e cerchiamo anche nuovi collaboratori, sia per la parte social che per quella redazionale, poi anche per il marketing, ci mancherebbe sponsor per aumentare anche il livello di tutto quello che facciamo, prime pagine dei giornali, formazioni, notifiche di quando siamo in live, stasera puntiamo a battere ancora di più tutti i nostri record alle 19, live e fuochi d'artificio ormai sono una consuetudine per il nostro aperitivo insieme e non da ultimo la nostra petizione che con il link in descrizione, doppio clic, tanti di voi ancora non l'hanno firmata, siamo a 3100 poco più su 50 e più mila che siamo, tanti non hanno cliccato per stoppare l'odio sui social e tutte quelle diffamazioni, minacce che leggiamo continuamente, che spesso arrivano anche a noi e si trovano poi i colpiti senza neanche la possibilità di fare nulla perché anche le denunce alla polizia postale si infrangono contro il muro dei social network che non aiutano neanche le autorità in caso di reati, quindi cerchiamo di stoppare l'odio sui social e combattiamo questa battaglia tutti insieme, prima di ogni cosa però il nostro messaggio per la pace ha maggior ragione dopo quanto stiamo vivendo e vedendo pace, pace e pace come continuiamo a ripetere in ogni luogo del mondo, è quello che deve essere sempre la regola, non ho capito tanto lo stigmatizzare i fischi ieri sera a Udine durante diciamo l'inizio della partita nei confronti di una nazione che l'argomento è chiaramente dibattuto però non so se meriti di continuare a giocare insieme tra l'altro alle nazioni europee, con la Russia si sono prese delle misure drastiche giustamente con tutto quello che sta succedendo tra Gaza, Libano e quello che leggiamo, insomma speriamo che trionfri sempre la pace, passiamo a noi, leggevo preparando la rassegna stampa e la nostra pagina quotidiana, la nostra colazione insieme col tè caldo più famoso di YouTube che si è scaldato ed è pronto per la nostra colazione anche di attacchi, di pseudo giornalisti, di opinionisti che non conoscono la materia, non hanno neanche cognizione di tutto quello che sta succedendo, parlano di interdaradiare, di inzaghi anche daradiare, robe assolutamente che non stanno né in cielo né in terra, due raccomandazioni e annotazioni, ricordiamo a tutti che si parla di inchiesta doppia curva prima di ogni cosa, che non c'è solo l'Inter sotto la lente ingrandimento ma anche il Milan e che bisognerebbe fare un discorso generale ma solo e soltanto quando tutto sarà chiaro, quando ci saranno delle sentenze prima da parte della magistratura ordinaria e poi da parte di quella sportiva e che lo stesso PM titolare dell'indagine, Viola, ha detto come prima cosa che in Terminal sono partilese, partilese, non l'ha detto solo Marotta, l'ha detto il pubblico ministero Viola, quindi almeno che si tenesse conto di queste cose prima di dire cialtronate epiche che poi però rimangono scritte e a cui ci si può anche rifare. Tra l'altro adesso, e qui passiamo alla pagina Cialanoglu, aspettatevi un Cialanoglu sotto pressione perché giovedì verrà interrogato anche lui come persona informata sui fatti dell'inchiesta, ha sbagliato il suo primo rigore dopo più di un anno con la nazionale, tra l'altro una scena abbastanza comica, scivolando sul dischetto su un campo ai limiti della praticabilità, mi sembra fosse in Islanda, fatemi guardare un attimo, è scivolato dal destro la palla è andata a colpire il sinistro, nonostante questo era riuscito comunque a segnare poi l'intervento del VAR ad annullare giustamente il suo gol e una serie aperta incredibile anche se a noi interessa quella con l'Inter in Serie A e Champions, non quella con la sua nazionale tra l'altro con cui aveva già sbagliato mi sembra un rigore nel 2023. Però aspettatevi adesso anche qualche focus, qualche attacco a Cialanoglu sotto pressione, sentito dalla procura, ha sbagliato il rigore, poi arriva anche Inter Juve settimana prossima, quindi state pronti e alziamo il livello di influenza, alziamo il volume del canale contro tutte queste situazioni. Però Inzaghi non può che essere soddisfatto a sto giro, a parte la brutta brutta notizia che riguarda Carboni e il suo grave infortunio che ne stoppa la crescita in quella che dove essere la stagione della sua consacrazione, però abbiamo avuto prima d'un freezing goal con l'Olanda anche se ieri ha perso, con la Germania male, poi il gol di Zilinski, la doppietta di Arnautovic, il gol di Frattesi ieri sera, quello di Aslani, gli assist di Di Marco, tutto a cercare di dare ancora più motivazione e entusiasmo morale per la ripresa, per questo tour de force che comincerà domenica a Roma, trasferta difficilissima e si concluderà il 10 di novembre con Inter Napoli, partita clou più che mai determinante, decisiva a San Siro contro Conte che ritorna ad avversario dopo la sua fuga, dopo il diciannovesimo scudetto che è ancora in modalità che non mi sono ancora chiare e che hanno lasciato interdetto, non credo solo me. Riapre la pinetina, oggi pomeriggio e aspettiamoci un Barella sempre più in gruppo, sempre più motivato, sempre più anche pronto per ritornare titolare, forse già da Roma analizzeremo la settimana ma credo proprio che possa essere possibile anche perché comunque Frattesi diciamo che non è stato risparmiato da Spalletti ed è uscito anche un po' diciamo non al meglio, quando all'ottantaseiesimo ha lasciato il campo a buongiorno. Buona! Diciamo notizia anche i soli tre minuti di partita di tour a Mieri, per fortuna Deschamps non l'ha messo titolare, la partita poi è stata molto difficile per la Francia che si è trovata anche in dieci, per questo è subentrato solo nei minuti di recupero, ha fatto solo tre minuti tre senza mettere a rischio la caviglia destra, toccata dura contro il Torino ancora, i dubbi rimangono sulle decisioni di Deschamps che l'ha tenuto in ritiro con la Francia nonostante non fosse assolutamente in grado di giocare la prima partita e la seconda abbiamo visto in campo solo tre minuti, perché non lasciarlo tornare a casa e fare un programma di recupero finalizzato a un superamento totale del problema e non a cercare in qualche modo di scendere in campo per una partita inutile di Nations League, tra l'altro poi tra un mese ancora rivedremo la sfida col Belgio, un'altra sfida con la Francia che almeno trovassero un modo per rendere un po' più appetibile una competizione senza senso, che si seguisse un po' il metodo della nuova Super Champions, non con questi gironcini noiosissimi all'italiana che ormai penso che ammorbino in tanti con partite di andata e ritorno, ma un unico girone in cui almeno vediamo un'Italia-Inghilterra, Italia-Germania, un po' di partite più interessanti che Italia-Israele e per due volte sfida il Belgio, basta anche, diciamo che abbiamo dato aspettando Barella, ma anche Buchanan che sta sempre meglio gradualmente rispetto al centrocampista Sardo, cercherà di rientrare, lunga è stata la sua assenza, la sua infortunia in Coppa America col Canada, frattura della Tibia, infortunio molto pesante, quindi ci vorrà un po' più di accortezza, però anche lui farà gradualmente il suo ritorno in gruppo, vediamo se potrà essere dei convocati già da Roma qualche dubbio, però è in lista Champions se mercoledì magari Svizzera Inzaghi comunque lo porta, lo porterà, vediamo se va tutto bene, il suo rientro in gruppo darà buone indicazioni, aspettando poi il ritorno degli ultimi che saranno Taremi, Zilinski e Lautaro che arriveranno giovedì dopo le ultime partite con le loro nazionali, sperando che anche Lautaro segua questo trend di gol dei Nerazzurri che ritrovi la rete anche con l'Argentina e si ripresenti a ridosso di Roma-Inter in condizione carica, pronto anche a tornare a segnare perché penso che le difficoltà dell'Inter inizio stagione siano dovute essenzialmente alla mancanza dei suoi gol perché in confronto all'anno scorso ne aveva segnati sei in cinque partite, ha iniziato a sbloccarsi solo a Udine e speriamo che adesso continui senza più fermarsi con un Turan molto più bomber, con un Turan molto più decisivo che anche può sfruttare gli spazi che proprio Lautaro gli crea con le parole del CT dell'Argentina, Scaloni che ha detto che nessuno più di Lautaro merita il pallone d'oro, ha fatto una stagione straordinaria, ha segnato il gol decisivo in finale di Coppa America, miglior cannoniere, annata incredibile con l'Inter, è mancato un po' in Champions e questo forse credo non gli farà raggiungere neanche il podio però è in crescita riportare le dichiarazioni di Scaloni al buon Amaury o Amaury che ho sentito dichiarare che il miglior attaccante del campionato italiano è Reteghi e che Morata è maggiore di Lautaro su cui consentitemi di avere qualche dubbio ma anche sul considerare Reteghi maggiore di Lautaro mi sembra che ci sia una quantità di gol infinita tra i due ma anche come leadership, come tipologia di giocatore non penso che ci sia al momento partita poi tra qualche anno magari sarà il contrario però sostenere che Reteghi e Morata maggiori di Lautaro mi viene già un po' mi vengono i brividi. Mercato, poi voglio leggere un articolo interessante secondo me di Roberto Beccantini firma top del giornalismo sportivo italiano che ancora ha una sua rubrica interessantissima sul Corriere dello Sport, proprio sul VAR e su un qualcosa che condivido particolarmente Mercato, Inter a caccia dei parametri zero, sento qualcuno dire che addirittura anche Jonathan Tà non rientrerebbe nei parametri di Oktri perché è troppo vecchio, adesso cosa dobbiamo giocare con la primavera? Va a finire quello perché se un giocatore ha 28 anni non rientra nei parametri nazionale tedesco con grandissima esperienza internazionale che vogliono tutti dal Bayern Monaco al Liverpool al Barcellona non rientra nei parametri perché ha 28 anni non state a ascoltare questi anche insider diciamo de maniera. C'è un nome interessante che l'Inter sta seguendo e secondo me ne ha già parlato anche col suo agente che guardate un po' è Tinti, lo stesso di Bastoni che ha parlato ieri che ha ribadito come Bastoni sia un super interista che ha appena rinnovato da un anno e mezzo e non c'è nessun tipo di possibilità che possa lasciare l'Inter. C'è un suo assistito molto interessante, Nicola Bertola, Nicolò Bertola scusate, 21 anni classe 2003, difensore dello Spezia, compagno di squadra dei fratelli Esposito fisico imponente, un metro e 92 che può giocare sia a braccetto di destra che di sinistra ma secondo me, no, un metro e 85 qua mi dicono, ma strano, detto tutt'altro. Comunque, il giocatore è molto interessante, 1,92 su Transfermark, su Corriere dello Sport, 1,85, dobbiamo un attimo chiedo a Pio Esposito quanto è alto Bertola, ci sono 7 cm e non sono pochi di differenza. Comunque ha fatto due gole in serie B in otto partite e direi che per un centrale dello Spezia non è poco, che va, se non sbaglio, a scadenza giugno con lo Spezia che gli ha fatto un'offerta mi sembra da 300.000 euro di stipendio o poco meno, raddoppiati rispetto, dovrebbe prendere adesso 160.000. Va a scadenza, riuscire a portarlo a casa, magari poi mandandolo in prestito o comunque aggregandolo alla prima squadra. Un giovane italiano così promettente, 21 anni, fisico, con anche d'utilità, il reparto difensivo può essere molto interessante. Poi i nomi di Jonathan David, ta l'abbiamo detto, si segue con grande attenzione Bernabé del Parma, c'è questo Benalian che piace non solo all'Inter, anche la Lazio lo sta seguendo con attenzione. Al momento la richiesta del Verona è sui 7 milioni da seguire, se darà seguito alle ottime prestazioni che ha fatto in questo inizio di campionato, potrebbe anche lui essere un centrocampista di qualità molto molto interessante da seguire, però prima di tutto io darei la priorità a riportare indietro Giovanni Fabian. Dite anche voi cosa ne pensate, sperando che l'italiano gli dia un po' più di spazio rispetto a quanto ha attualmente. E ribadisco che preferirei un Marmouche, l'attaccante che sta spaccando veramente tutto, con l'eintracht francoforte, 8 gol in 6 partite, 4 assist, piuttosto che un David che secondo me è un po', non dico un doppione di Lautaro, però ci assomiglia tanto e non è quell'attaccante veloce che ti fa un po' allargare la ricchezza dell'attacco. Vedrei bene anche Daniel Maldini che ieri ha fatto il suo esordio con la nazionale italiana, che però vi ho detto il Milan ha un diritto di prelazione, di pareggiare l'offerta migliore che dovesse arrivare al Monza e non credo che se lo farà soffiare da Inter o Juve, che sono molto interessate al figlio di Paolo, che può essere, se continua a crescere come sta facendo, anche un investimento interessante, ancora abbastanza a basso costo. Dicevamo dell'articolo interessante che un po' va a riprendere quello che dicevamo, che abbiamo sempre sostenuto noi, no? Sull'utilizzo del VAR che va a rivedere spesso episodi che al rallentatore sembrano chissà che cosa, ma che invece sono alterati dalla slow motion, quindi cambiano un po' anche la percezione. Infatti vediamo se becco l'articolo che leggiamo insieme. Arbitri al VAR, ma si vieti l'uso del rallentatore per alcuni episodi. Leggiamo e siamo assolutamente d'accordo. Tra i rigorini e i pestoncini, cari a Paolo Casarin, che fu arbitro e disegnatore quando la televisione era una zuffa di cerbottane e non ancora allo sbarco in Normandia di oggi, rilancia una vecchia proposta. Si vada pure al VAR, ci mancherebbe, ma per i contatti di piede, di spalla, di corpo, si vieti l'impiego del rallentatore, tassativamente. Nel dettaglio, l'arbitro di campo, richiamato dal collega al video, si reca allo schermo e insieme scrutano, esplorano e decidono alla velocità però effettiva del contrasto. Non attraverso la scorciatoia subdola della slow motion che droga l'intensità, che gonfia l'impatto. Step on foot lo canticchia persino la casalinga di Voghera. A giudicare piano, frame by frame, la pedata sembrerà sempre una coltellata alla scarpa, uno schiacciamento tribale dell'alluce, una feroce guantanamo in cui deportare e seviziare il metatarso di turno. Spopolano per questo i processi che celebrano l'anatomia degli istanti con prosopopea chirurgica e flemma tartaruguesca, se non addirittura tartufesca. Ribadisco, a scanso di equivoci, riprodurre l'azione, studiarla, indagarla, senza se e senza ma, a un patto di non nascondersi vigliaccamente dietro lo scudo delle telefrenate. L'abbiamo detto, a rallenti, anche un appoggio così sembra chissà quale spinta che invece a velocità normale, ma soprattutto dal campo è tutta un'altra cosa. Quindi siamo assolutamente d'accordo con questo, diciamo, limitare il rallentatore in caso di questi contatti che lo slow motion poi trasforma sempre in chissà che contrasti quando in realtà la percezione reale dal campo a occhio nudo è tutta completamente diversa e penso che anche questo sia un motivo, una spiegazione di tutti i rigori che sono stati dati, ma solo nel campionato italiano. Andiamo ora a leggere i vostri messaggi un po' di filo diretto, aspettando le 19, lì è proprio il vostro appuntamento in cui vi aspetto. Cominciamo con un brutto messaggio perché è venuto a mancare un amico, uno di noi, che aveva dato indicazioni di mandarci un messaggio e di volerci appunto informare. Mi piacerebbe che andaste tutti a mettere un cuore nel messaggio che poi ho messo in primo piano nel video di ieri perché Andrea Gianola non c'è più, volevo comunicarti, scrive qualcuno a lui vicino che Andrea ci ha lasciato una settimana fa, mi ha detto che devo inviarti un messaggio. Andrea rimarrai sempre nel nostro cuore, sei parte e sarai sempre parte della nostra famiglia, saremo sempre al tuo fianco e spero anche tu con noi da lassù ci mancherai tanto ed è un qualcosa veramente che ci rende tristi. Per fortuna però la vita ti dà anche delle belle notizie e quindi auguriamo alla nostra amica Luletta che è stata un po' assente nell'ultimo periodo ma perché aveva una bella novità, perché presto diventerà mamma e quindi ci sarà un piccolo interista in più o una piccola interista non lo sappiamo però dopo una brutta brutta notizia una bella e le congratulazioni alla nostra amica che diventerà mamma. Raffaele se bastoni in ogni partita della nazionale viene schierato fuori ruolo è meglio che non giochi proprio contro Israele così sarà più fresco per la gara di campionato con la Roma e invece alla fine poi Spalletti non ha fatto sconti, ha fatto giocare tutti i tre nerazzurri. Patrizia è felicissima per i due gol di Arnautovic, speriamo che lo aiutino a ritornare ancora di più utile per Inzaghi. Luca va a prendere l'errore e non solo lui in tanti l'avete subito individuato del collega di ieri del Corriere dello Sport. L'errore su Zilinski è grossolano in Champions ha giocato 156 minuti prima contro il City poi contro la Stella Rossa dove è stato in campo ben 90. Rimani l'unico Marco giornalista attendibile per noi non sono l'unico però un minimo anche se uno ha una svista di controllo non mi puoi dire che Zilinski ha giocato solo con la Stella Rossa da titolare quando è stato in campo dal primo minuto nella partita più importante dell'anno a Manchester. Questo è un errore con la penna rossa. Salutiamo Luca Clerici, auguri di completa e rapida guarigione a Carboni, sembra che Arnautovic sia in condizioni fisiche ottimali, sulle sue doti tecniche non ho mai avuto dubbi, ci darà un grosso contributo. Per me la società dovrebbe intervenire contro chi infanga l'immagine della nostra amata Inter, la politica del silenzio paga poco. Anthony, buon inizio di settimana a tutti. Cosa dire? Cerchiamo di dare carica a quest'altro Tour de Force. Italo, quando potremo rivederti operativo? Anche se parzialmente, bisognerà aspettare, aspettare e speriamo che si riesca in qualche modo. Nonna Novella, una serena settimana a tutti voi, ci aspetta un periodo difficile ma ce la faremo. Alla mia età non mi scalfiscono le chiacchiere di questo genere, non esiste più la cortesia fratellanza. Mi dispiace per i giovani che non hanno un buon insegnamento. Sentite la nonna, ogni riferimento a Spalletti è puramente casuale, ma poi anche lui dice che non si riferiva a Inzaghi. Chissà chi si riferiva e che cosa voleva dire con le sue dichiarazioni. Mario, alcuni giorni di attesa e finalmente torna il campionato nazionale, sono saturo. Per essere chiaro, nessun interesse. Penso che sia giusto il momento anche di riprovare con Correa, visti numerosi impegni. Auspicando che quanto prima termino tutti i conflitti e torni la pace. E finisce poi con una citazione musicale. Quindi ringraziamo tutti gli abbonati che hanno una via preferenziale, quindi sostenete se riuscite anche voi il canale. Massimo Cattaneo, contento per i recuperi di Barella e Buchanan. Maurizio Bosco che saluta tutti. Mauro De Pietri, credo che la società Inter dovrebbe non mandare in nazionale alcun giocatore. Sono ormai troppi gli attacchi attesserati Inter da parte del CT Spalletti. Però, poi, vedete le risposte sono quelle sul campo. Vi ricordate, dice Predic, un giornale qualche tempo fa, Bastoni prova a fare il calafiori. Visto che l'ex Bologna fu giudicato più forte del nostro Alessandro, perché non mettere lui al centro anziché spostare Bastoni? L'ho detto, ma perché si cambia di ruolo solo a Bastoni? Azzael Tenorra. Ma come si fa a giocare su sintetico a questi livelli? Spalletti è sempre stato un presuntuoso. Mike ricorda che lui ha difeso a spada tratta Arnautovic ed è convinto che possa fare molto, molto bene. Salutiamo anche Oriana, tantissime le nostre girls, sempre più numerose. Vedo che anche dalla tua grinta, giorno dopo giorno, stai meglio, sempre meglio. Grazie per le notizie aggiornate che ci porti ogni mattina, ogni sera. Salutiamo Joseph Mega. Auguri per Valentin Carboni. Si ricomincia trittico di fuoco. Roma Young Boys e Juventus. Sono sempre stato d'accordo perfettamente con te per quanto riguarda le scelte da fare con la variabile Barella, che secondo me non partirà a titolare, la trasferta di Domenica Roma. Vedremo un po' le decisioni di Inzaghi. Grazie a tutti. Mi raccomando scrivete numerosi. Per gli abbonati ricordiamo anche scrivetemi per avere l'accesso al gruppo VIP Telegram in cui ci sono anch'io, in cui potete confrontarvi e scrivere in prima persona con tutti gli altri nostri amici. Ultima parte di Rassegna Stampa. Sono sul Corriere dello Sport. Andiamo. Lasciamo stare la provocazione di Ronaldo Ascesni. Dovevi ritirarti per riuscire ad andare a giocare una grande squadra con una pernacchia all'Inter. Di Bala pronto. C'è. Dovrebbe recuperare proprio per la partita di domenica, a cui tiene particolarmente. Inter doppia il focus del core sport. I big schierati in campionato contro i Young Boys. È previsto ampio turnover, come vi ho detto, per preservare poi la squadra titolare per Roma e Juve. Mentre l'Argentina si affida all'Autaro, i guizi di Arnautovic potrebbero dargli un qualcosa in più, nonostante la solita sempre disponibilità che ha sempre dimostrato, rivelandosi un elemento molto importante anche fuori dal campo. La Gazzetta. Prima pagina dedicata all'Italia. Italia è qui la testa. Grido di denuncia alla Commissione Europea del Sindacato Giocatori. Basta, giochiamo troppo. Giocatori e leghe si ribellano contro la FIFA. Poi anche in prima pagina, torno e non mi fermo più, focus su Barella. Pagelle dei Nerazzurri. Sette a bastoni. Sette a frattesi e sette e mezza di Marco ancora con un assist. Tonali è stato immenso, anche frattesi è forte. Aspettiamo Barella. Le parole del CT. Solo tre minuti per Turan, per fortuna. E poi Nicolò fa gli straordinari. Adesso non esce più. Con lui l'Inter va di corsa. E qui vedete, si ricomincia. Ciala giovedì testimonia sul caso Ultras. e in Islanda. Sbaglia il secondo rigore in otto anni. Ci prepariamo a un Ciala sotto pressione. Poi una squadra XXL, Turan versione bomber, Taremi Giolli e Buchanan. Quanta scelta adesso per Inzaghi? E questa rosa profonda adesso deve fare la differenza, la deve fare anche Simone Inzaghi. Ci siamo un po' allungati oggi. Vi regaliamo una colazione bella lunga e l'appuntamento è rinnovato alle ore 19. Mi raccomando, a più tardi.